La giornata di sport, noi abbiamo scelto Tortoreto con gli organizzatori, abbiamo scelto Tortoreto Paese per vendere omaggio a tutti i paesi e altre due tappe del giro d'Italia, la partenza e l'arrivo l'abbiamo fatto sulla nostra meravigliosa spiaggia e adesso con questo circuito che abbraccia tutto il territorio, dalla collina al mare di Tortoreto per far ammirare e gustare il nostro territorio sia a livello di immagine, di panorama, che anche a livello comunale. E' un rilancio dell'innovazione di Tortoreto a tutti i centri suoni, quindi la zona può essere un pietico per il futuro turistico del paese. Assolutamente, l'investimento è questo, è rivolto al turismo, è fatto conoscere, anche se il nostro borgo è conosciutissimo, però è sempre imprescato per vedere sui canali internazionali e internazionali la ripresa dell'arrivo delle ultime due ore di trasmissione ma anche in tutto il mondo, in molte visioni, è bellissimo. Abbiamo ricevuto questa mattina delle telefonate dalla Scozia e dal Canada, dice ma che sta succedendo, che fate a Tortoreto per dire che è una bellissima produzione.